171 le volte in cui il Consiglio regionale si è riunito nell'ultima legislatura. 1023 sono state invece le sedute di commissione con più di 3.000 soggetti auditi e 974 testi approvati. Complessivamente le deliberazioni consigliari sono state 2.691, di cui 815 solo nel 2020. I progetti di legge approvati tra il 2018 e il 2022 ammontano 136, 35 nel 2022, 8 in più rispetto al 2021.